action dal vostro morissan buongiorno moriscritto what the hell per cascare in piscina ragazzi guardate un po' look at that il video per youtube morissan nega in piscina in costa ricca allora faccio questo video pacifico ragazzi per augurarvi un mondo di bene a voi i vostri cari i vostri amici e volevo ringraziare di cuore tutte le persone che sono iscritte al mio canale nuovo dove parliamo solo solamente di finanza business consigli pratici su come cambiare vita e tanti video in arrivo ragazzi a gennaio e soprattutto dei corsi per mettersi in proprio lavorando da casa lavorando da ogni parte del mondo io questo momento questo lo faccio io mi diverto quando faccio video qui su youtube però sto lavorando però quanto vale poter lavorare ogni parte del mondo ragazzi guardate un po' look at that bello vero qua ci sono ci sono praticamente 20 già 23 gradi sono in pigiama giù di casa c'è una pace incredibile guardate questa è una colonia che ho scelto costa ricca abbiamo tutte le guardie armate se qualcuno prova a scavalcare non vi dico cosa cosa accade ci sono le fence con la scossa elettrica l'altro giorno non mi sono accorto ho preso una scossa ho visto una scossa volevo aiutare lo scogliaccio ho preso una scossa elettrica incredibile cosa volevo dire amici quindi pace e bene a tutti ragazzi sto preparando un video dove dico vi svelo un segreto il segreto del successo che è una cosa elementare che tutti devono mettere in pratica per cambiare la vita ok la lista la lista delle ambizioni ma lo vedrete prossimamente un video ma questo video soltanto per ringraziare tutte le persone che sono iscritte al canale che mi hanno appoggiato che fanno dei commenti costruttivi e parleremo di tante cose ragazzi una cosa che leggo spesso nei commenti però è ah no impossibile qualcosa non può mai fallire quella cosa no ragazzi nella vita tutto può fallire non dimenticatelo mai compreso il bitcoin e ora fare un video 10 modi come far fallire il bitcoin ricordati quando sei un bravo imprenditore conosci un modo per far crescere un'azienda ma anche per farla fallire e i governi se vogliono lo possono fallire quando vogliono se non fanno fallire perché gli interessa per l'operativo diffidate di chi si innamora di un qualcosa perché l'ho visto la mia nella mia carriera di businessman persone che dicono devo questa attività e ce l'ho dalla vita e poi fallisco insieme all'attività e tutte le cose quelle vengono viste come oggetti sono degli oggetti non dimenticatelo mai la vostra siete voi importanti i vostri cari vostra famiglia gli esseri umani che girano attorno a voi sono importanti non gli oggetti ok comunque ragazzi questo video per dirvi mille ringraziarvi e augurarvi a tutti quanti un felice natale bye bye dal vostro morrisano